Buonasera a tutti amici e bentornati al TG di AC Milan Inside. Finalmente domani ritorna il nostro Milan alle 20.45 contro il Venezia e nella probabile formazione vediamo ritornare Theo Hernandez, Leao e preferire Emerson Royal a Calabria dal primo minuto. C'è un altro balottaggio in difesa che è quello tra Pavlovic e Gabbia. Ditemi voi ovviamente chi preferireste che partisse dal primo minuto e poi non ci sono dubbi per quanto riguarda l'attacco ovvero Abram dal primo minuto mentre invece come già detto ieri Morata sarà a riposo in panchina però potrebbe entrare durante lo svolgimento della partita. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di Mr. Fonseca e ha risposto in particolare a una domanda che riguardava un possibile cambio di modulo con una difesa a tre ma Mr. Fonseca ha detto che probabilmente non ha intenzione di cambiare. Ha inoltre risposto a una domanda per quanto riguarda Ibra dicendo che comunque i due si sentono ogni giorno quindi Ibra è aggiornato di tutti quanti i movimenti dei rossoneri. Giugno 2025 è la data di scadenza del contratto del nostro attuale capitano Calabria che vorrebbe rimanere in rossonero. La richiesta monta a 2 milioni e mezzo in confronto ai 2 milioni attuali però l'arrivo di Emerson Royal sta comunque facendo barcollare il suo posto da titolare. Queste sono tutte quante le notizie di oggi come al solito vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social targate AC Milan Inside vi aggiorniamo sempre di tutto.